Ciao ragazzi, ben ritornati in un nuovo video Oggi non siamo su Minecraft, ma su Minecraft Dungeon E questo qui lo volevo portare perché mi ero un po' stufato portare soltanto Minecraft Vanilla E ho deciso di portare i Minecraft Dungeon Questo qui sarà il primo episodio E allora, cominciamo Avviamo la partita Ho fatto uno screenshot E cominciamo con il tutorial Che vabbè, io lo so già fare perché ce l'ho dal 2020 2020, 2021 non ricordo Ma eravamo in quegli anni, quindi Ho in mente di portarlo anche in live su Twitch Ora ho un po' di difficoltà a fare le live su Twitch perché non ho un microfono Allora Fai al villaggio Diamo 10 danni, ok Allora Chiudiamo sto zombie Non ho frecce, quindi non posso usare l'arco Ok Ok, chiudiamo Sento un po' la mia console Lasciate stare Lasciate stare Se sentite qualcosa di strano Lasciate stare Allora Finiamo il tutorial Creo che su questo primo episodio Avevo in mente di portare soltanto il tutorial Poi se abbiamo tempo Porto anche un'altra roba Allora Allora Dobbiamo andare di là Nooo Vabbè Speriamo che non siano soltanto questi Ok Ok, erano soltanto questi Aumento di livello Va bene Ogni aumento di livello offre un punto di incantesimo Utile per potenziare gli oggetti Apri l'inventario per provarlo Ora Ora non ho niente Cioè Che senso ha? Ho soltanto una spada scarsa Continuiamo qua Ok, dove ho killare lo scheletro Ma come faccio? C'è una cesta là? O sia per decorazione O per O c'è un modo per passare un bug Una roba del genere Ma vabbè Allora Ma poi verso settembre arriverà anche qualcosa Su Minecraft Java Lo speriamo Oh Possiamo creare il nostro accappamento Fine missione For a hero to find them Allora ci sono abbiamo minor danno subito 17 colpi da proiettili 57% cure fornite 0 casse aperte 0% giocatori rianimati 0 ok vediamo cosa troviamo una canna da pesca compagna fidata di ogni avventuriero che rispetti la canna da pesca è molto utile non solo per pescare capitani dell'incursione stai attento eroe i capitani dell'incursione sono stati avvisati in zona e potrebbero presentarsi in qualsiasi missione tu abbia completato i capitani dell'incursione hanno una taglia sulle loro teste eliminali per ricevere premi aggiuntivi ok ma ci sono alcune robe che ho già preso quindi boh qua avevo in mente di portarlo al prossimo episodio cosa abbiamo qui dentro allora vediamo cosa possiamo mettere i fuochi da tirciccio come potere poi la canna da pesca trascina la creatura più vicina verso la tua posizione estordisce brevemente quel nemico 3.2 secondi durata estordimento 1.5 secondi tempo di recupero possiamo mettere qua ok vediamo cosa c'è qua nei ritorni ah lo devi buttare qua c'è una casa boh da me è tutto noi ci vediamo a un prossimo video ciao 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 ciao